Ruotano gli ospiti, le ospiti anche all'interno dei nostri programmi, cambiano le persone, l'unica cosa che non cambia è il caldo, quello continua a rimanere uguale, ma vabbè pazienza, meglio che insomma una pioggia torrenziale che non ci avrebbe permesso queste belle dirette qua fuori nel giardino della Casa Valdese di Torrepellice. E adesso diamo il benvenuto alla nostra nuova ospite, la pastora Mirella Manocchio, pastora a Roma, alla Chiesa Metodista di Roma e presidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia. Buongiorno Mirella. Buongiorno e grazie per avermi ospitata qui. Grazie a te per essere venuta, ti abbiamo invitata perché, non so se la regia può farlo vedere, però sia io che Mirella abbiamo questa spilletta nera appuntata che è la spilletta del Thursday in Black. Oggi è giovedì, oggi è Thursday, è giovedì e c'è questa campagna del Thursday in Black a cui la Chiesa Valdese e l'Afdei hanno aderito diciamo in modo ufficiale già da qualche anno. Che cos'è? Ce lo ricordi? Allora, questa campagna che appunto in italiano è giovedì in nero è una campagna che è stata promossa dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, WCC, dopo il decennio sulle donne contro la violenza e per la resilienza e la resistenza delle donne, quindi sulle questioni di genere e 1988-1998 dopo questo è stata avviata questa campagna per proseguire diciamo questo lavoro sensibilizzando appunto le persone alle tematiche che riguardano da una parte appunto le questioni relative alla violenza sulle donne ma dall'altra anche della parità di genere, il femminismo attualmente, il femminismo intersezionale, quindi un occhio a tutte quelle che sono le varie declinazioni di oppressione e di discriminazione. Quindi è diverso parlare io donna bianca di medio-piccola borghesia, diciamo così, rispetto a una donna nera magari di un quartiere popolare. Il mio grado di discriminazione e di oppressione sarà sicuramente differente e quindi una donna, una femminista intersezionale si pone diciamo così con questa consapevolezza e in collaborazione. Quindi ecco, questa campagna tiene conto di questi vari aspetti e qui in Italia cerca appunto da parte della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia e della FFVM che è la Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista Esatto, confondono questi acronimi così, però è quella esattamente quindi abbiamo aderito insomma in maniera ufficiale, stiamo cercando di portare avanti quindi abbiamo chiesto quest'anno al sinodo, ai sinodali, i sinodali e le sinodali di indossare abiti neri o scuri almeno e mettere la spilletta appunto in segno di voler aderire a questa campagna, di voler sensibilizzare su questo tema che è una tragedia è un dramma quotidiano Esatto Davvero sì, non si riesce neanche a comprendere come possa essere quotidianamente elemento di cronaca un fatto del genere Sì, in tutte le sue declinazioni Assolutamente È un dato trasversale che attraversa l'Italia dal nord a sud differenti strati sociali, culturali cioè tutte le classi e le culture ne sono attraversate e in tutto il mondo in Italia veramente abbiamo dei numeri enormi e si continua ogni anno, dopo ogni anno, sembra peggiorare per quanto si vedano dei passi in avanti, diciamo così abbiamo delle figure ora piccali in Italia, delle figure anche di potere femminili, di donne però questo non ha cambiato forse la sostanza della nostra società che rimane comunque patriarcale in cui le discriminazioni ci sono ci sono anche quelle che si chiama gender pay gap il fatto che le donne siano discriminate sia nel salario che nelle possibilità di accedere a determinati ruoli e anche nella maternità, quindi persone che vengono licenziate, lo sappiamo benissimo a seguito di maternità o se si paventa una maternità ecco, tutto questo è molto presente nella nostra società quindi occorre esserci e lavorare, impegnarsi e noi come chiese cerchiamo di farlo, come organizzazioni femminili cerchiamo di farlo l'occasione quindi di sostenere, certo in modo simbolico indossando i vestiti neri, la spilletta e per tutti i giovedì, tutti i giovedì possono essere dei giovedì in nero dei Thursday in black che ricordano l'adesione appunto a questa campagna internazionale grazie Mirella Manocchio grazie a voi